eccoci qui a discutere un argomento un pochettino come dire spinoso in certi ambienti che riguarda l'articolo la presenza l'assenza dell'articolo nel greco originale e così via questo video nasce anche in risposta ad una specifica domanda che hanno fatto e che poi mi fanno continuamente diverse persone le domande la domanda nasce non da un problema sul testo greco ma sul fatto che comunque gli interessi dottrinali di alcuni spingono a utilizzare le sfumature del testo greco che sono una ricchezza della lingua originale della bibbia semplicemente per creare dei precedenti e farsi cercare di trovare delle sfumature per il proprio tornaconto per le proprie interpretazioni guardiamo il testo greco con molta semplicità io spero che anche non è particolarmente difficile l'alfabeto greco potete anche andare in un qualsiasi video tutorial e impararlo è molto semplice poi da leggere io lo leggerò e lo guarderemo insieme lo tradurrò mentre lo leggo cercherò di essere il più veloce possibile del resto il video ve lo potete riguardare più di una volta per non avere un video troppo lungo allora siamo qui enarchè in principio en era ologos la parola kai ologos en pros ton teon sto utilizzando la lettura standard perché esiste anche la lettura quella greca che è molto bella la utilizzo a volte anche a livello personale però in questo momento ritengo che sia più importante la semplicità quindi utilizzo la lettura greca standard che è quella che si utilizza anche nelle scuole quando si studia il greco kai teos en ologos eccolo qui allora quindi abbiamo ologos abbiamo l'articolo e la parola logos la parola in greco è maschile e anche per questo che alcuni traducono il verbo per mantenere il maschile in italiano la parola parola è femminile però non è essenziale perché scusate anche la parola spirito in greco è neutro in ebraico e femminile rua però ciò non ne cambia il genere il senso della del termine l'importanza poi abbiamo ologos quindi la parola en era pros che è qualcosa un po più sofisticato del nostro con di fatti in alcune bibbie trovate con in altre trovate presso perché indica la relazione fra ologos e teos e teon e teon è la declinazione sarebbe teos o teos però declinato all'accusativo e ton teon e quindi indica questa relazione che definiamo con con ma si tratta proprio è molto importante molto bello perché ci fa capire nell'originale che ci troviamo davanti a due individui e che sono in una relazione intima fra fra loro che c'è la vicinanza si percepiamo la vicinanza fra i due ca i è teos e no logos e dio era la parola ecco qui abbiamo teos senza l'articolo non è articolo determinativo è articolo perché in greco c'è solo l'articolo uno e non è determinativo come in italiano ma è articolo con una valenza diversa da quella che abbiamo in italiano qui non ha l'articolo e allora alcuni dicono vabbè se non ha l'articolo e lo traduciamo con un dio e questa è la questione ecco tradurre questo brano un dio significa semplicemente non è vero e capito che cosa dice il testo significa semplicemente non conoscere il greco significa semplicemente non conoscere il vangelo di giovanni o se vogliamo ancora con maggiore semplicità possiamo dire utilizzare il testo e le sfumature semplicemente per un nostro personale tornaconto ed è semplicissima questa cosa ed è dimostrabilissima è la realtà dei fatti ed è una realtà oggettiva non è una realtà opinabile infatti esistono tre possibilità se teos non ha davanti l'articolo possiamo essere davanti a una parola che sia determinata definita esattamente come se avesse l'articolo uguale questo è possibile in greco è possibilissimo normalissimo adesso lo andremo a vedere in questo stesso testo può essere indefinita e allora aggiungiamo un o può essere qualitativa ad esempio quando capita che la pubblicazione dei testimoni di geova si spregano per dimostrare che teos è qualitativo e danno perfettamente ragione a ciò che stiamo dicendo quello che sto dicendo io adesso perché teos in questo caso ha una forza effettivamente in base alla posizione che occupa nella frase teos enologos proprio qualitativa perfetto solo che poi loro lo traducono un dio quindi indefinito cioè dimostrano che è qualitativo per tradurlo indefinito no loro dovrebbero dimostrare che è indefinito non qualitativo è semplicissimo è un errore di base di ignoranza o malafede poi sa a chi lo vuole giudicare insomma ognuno poi lo può intendere come vuole ma oggettivamente è così difatti continuiamo a leggere io ho evidenziato qui con dei colori guardate teos lo troviamo più avanti al verso 2 con l'articolo di nuovo ton teon utos en en archè pros ton teon egli era in principio o addirittura anche nel principio pros ton teon perché anche se archè non ha l'articolo davanti qui è troppo chiaro che questo archè è l'archè della creazione di dio di genesi 1 ok andiamo avanti incontriamo varie parole guardate qua c'è zoe zoe senza articolo poi più avanti è qui con l'articolo e zoe guardate che non sono due zoe diverse la stessa c'è l'articolo là non c'era lì ha una sfumatura ma parla della stessa della stessa cosa che è vita tofos c'ha l'articolo è pieno poi andiamo più avanti al verso 6 e che ne e venne un uomo a pestalmenos parateu guardate qua qui antropos è un nome generico in questo caso è indefinito significa un uomo ed è perfettamente chiaro semplice diretto è proprio il tipico del nome uomo no di essere se invece voleva dire l'uomo avrebbe avrebbe premesso l'articolo quindi e geneto o antropos che non avrebbe senso a pestalmenos parateu guardateu è la parola teos declinata al genitivo guardate non ha l'articolo anche qui è senza articolo ma inviato da chi inviato da un dio inviato da dio e perché non ha l'articolo perché non c'è bisogno di mettere l'articolo perché teos sia definito e in questo caso la sfumatura del greco è proprio questo che parla di dio come se forse in una maniera più ampia e più completa ok un uomo auto joannes dal nome di giovanni ma andiamo avanti perché ci interessa solo la questione relativa all'articolo lo vedete come tu fotos all'articolo tofos e questo cambia se tu è al genitivo tu fotos e tofos invece è all'accusativo al nominativo scusate noi in questo caso uc ene kenos tofos e in questo caso succede che l'accusativo e il nominativo sono esattamente identici quando sono retti dal verbo essere quindi per questo non avevo detto era il nominativo in realtà è all'accusativo perché siccome è retto dal verbo essere in questo caso anche l'accusativo è uguale al nominativo ecco qui poi siamo al verso 12 dove dice osoi de elabon auton coloro de elabon che l'hanno ricevuto ed hocen autois exusian tecna teu genestai diede loro l'autorità tecna figli teu di dio genestai diventare essere e il verbo genestai è un verbo simile al nostro essere che giovanni usa col verbo essere però come verbo con la valenza di verbo essere ma anche con la sfumatura del diventare e il verbo chino mai però qui ci dobbiamo concentrare su un'altra questione guardate qua teu manca l'articolo ma siamo figli di dio non siamo figli di un dio poi sono figli di un dio minore c'è una volta un figlio quindi anche qui giovanni non mette l'articolo ma nessun dubbio che qui parli di dio assolutamente che siamo figli di dio non di un dio più avanti ancora al verso 13 parla proprio di questo che sono non sono stati generati dalla carne dalla volontà di uomo e così via alec teu e genetesan ma da dio sono stati generati eccolo qua anche qui manca l'articolo manca l'articolo ma è inutile discuterci sopra è troppo chiaro qui parla di dio ed è definito perché se avesse non c'è ma se ci fosse stato l'articolo e l'articolo non c'è in questo caso in entrambi i casi non possiamo immaginarlo come una teu indefinito non è un sostantivo indefinito e non è neanche qualitativo in questo caso anche la posizione della della del teu lo vedete com'è e la costruzione della frase è chiaro una bella sfumatura fantastica comunque del greco e la padronanza che sta mostrando in questo brano giovanni della della lingua greca sono molto importanti nessuno può mettere uno davanti a questo caio logos sarx e geneto e il logo stivenne carne molto bello però andiamo avanti guardate qui c'è questo punto dove parla di monogenos parapatros e parla di di gesù che il monogenos parapatros qui la sfumatura è incredibile ma non parla di un unigenito qualsiasi parla di cristo è chiaro e non parla di un padre qualsiasi ma parlare il padre tanto è vero che poi più avanti tu patros lo vediamo che all'articolo al verso 18 ma non sono due padri diversi parla del padre è molto chiara questa cosa no vabbè però ci sono delle sfumature qui ancora più sofisticate anche qui le sfumature possono essere utilizzate per fantasticare sul testo della bibbia poi uno invece può anche leggerlo e accettarne quello che la scrittura dice siamo qui la bibbia è sottoposta interpretazione e le interpretazioni più fantasiose nascono anche dai bisogni delle persone di soddisfare le proprie necessità ma noi vogliamo leggere la bibbia e capirla com'è andiamo al verso 18 dove troviamo teon udeis e ora che popote cioè dio nessuno l'ha mai visto quindi abbiamo anche qui dio e dio non si discute e perché non abbia l'articolo sta parlando di un altro dio e la cosa bella secondo me è che forse questo utilizzo perché vedete lavorando diverse volte con degli scrittori perché anche giovanni era uno scrittore quando scriveva e aveva un suo stile se leggete i vangeli nelle traduzioni lo stile non si sente quando leggete i vangeli la scrittura le pistole di paolo e l'apocalisse nella lingua originale quello che si coglie è lo stile dell'autore giovanni ha uno stile inconfondibile che non è quello di matteo ed è nell'uso dei vocaboli la posizione dei vocaboli tutto è tutto diverso perché hanno uno stile ogni scrittore ha uno stile nelle traduzioni le traduzioni della bibbia ovviamente tendono a uniformare questo stile se leggete la dio dati ad esempio nel mio piccolo quando leggevo matteo e marco nella mia vecchia bibbia leggendola mi sembrava marco la riduzione di matteo ma se la legge in greco no assolutamente lo stile di marco non è quello di matteo ci sono delle dei dettagli addirittura che pur essendo più breve ci sono dei dettagli che matteo mancano lo stile dello scrittore questo cioè dall'auto l'originale quando giovanni qui ci utilizza la parola teos una volta declinata qui all'accusativo due volte qui declinata al genitivo qui declinata al genitivo tre volte quattro volte ancora qui declinata al genitivo la usa senza l'articolo al capito avversi da 1 a 18 ci potremmo leggere tutto il mangiare giovanni il tempo potremmo averlo il nostro video che non può durare in eterno e la usa senza articolo in base a quale logica di stile possiamo immaginare che utilizza tutte queste volte teos senza articolo e parla di dio e qui invece parla di un dio dal punto di vista squisitamente stilistico è una follia e lui se avesse avuto in mente lo specificare che quel teos riferito al logos non è esattamente dio ma si parla di qualcos'altro avrebbe fatto la massima attenzione a mettere l'articolo pure dopo invece il fatto che forse non l'abbia messo che cambia poco come abbiamo detto nella struttura forse ci fa proprio capire che chi lo vorrebbe fraintendere non lo può fraintendere lo può volere fraintendere ma se legge il testo non lo può fraintendere quindi quando qualcuno legge il primo verso e dice che non percepisce che qui ci troviamo davanti a un teos qualitativo e un teos che ha la stessa forza degli altri teos senza articolo presenti all'interno dei primi 18 versi di giovanni e potremmo mi ripeto leggerci tutto il vangelo insieme in greco e poi alla fine arrivare per venire a queste stesse conclusioni chi non lo percepisce in questo modo o in mala fede o non conosce il testo chi lo definisce qualitativo per poi tradurlo come indefinito quindi un dio perché un dio non è qualitativo un dio è indefinito ma si si prodiga e studia e dice e analizza per dimostrare che teos è qualitativo e poi alla fine lo traduce in maniera indefinita dubito che abbia anche le conoscenze sufficienti anche di grammatica ma al di fuori anche della lingua greca perché un conto è un qualitativo un conto è un indefinito sono cose diverse c'è una distinzione importante in questo caso capisco che le sfumature di una lingua nella traduzione si possano perdere ma neanche la traduzione può utilizzarsi per corrompere il testo non è quello lo scopo per il quale si traduce l'idea sarebbe quello di rendere il testo comprensibile quindi teos con essenza all'articolo nei primi 18 versi del vangelo di giovanni si riferisce a dio questo è questo dice il testo greco del resto ci sono altri altre parole qui antropos con e senza articolo e poi se andiamo avanti comunque altro e ancora con senza articolo si parla della stessa cosa è fantascienza uscirsene con delle teorie che non stanno né in cielo e né in terra però ognuno è libero di dire quello che vuole e di fare quello che vuole io mi sentivo in dovere di rispondere a quella domanda è una vita che discuto e rispondo su queste domande ho scritto una monografia sulla sull'articolo in greco che è molto bella ho fatto questo studio anche a livello personale andando a spulciare diversi bianni del nuovo testamento nella mia lettura e ne ho catalogato alcuni perché all'inizio pensavo di fare qualcosa di più lungo però secondo me più aggiungo più rendo complessa la cosa ma in realtà se si prende in mano il testamento il nuovo testamento lo si legge in greco ma anche lo stesso vangelo di giovanni quello che ho detto secondo me è troppo lampante difatti mi chiedo chi arriva a certe conclusioni se ha mai preso il vangelo di giovanni se l'ha letto interamente in greco cercando di capire cosa dice in greco senza veicolarlo con una traduzione questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto vi sia di vostro interesse e se cercate sul mio sito web giuseppe guerino punto com troverete i libri che diversi testi che ho scritto scritto una grammatica di greco molto semplice molto pratica e anche una monografia sull'articolo in greco ed altre cose che riguardano il greco del nuovo testamento per edificare più che per demolire dio ci benedica grazie